ma nono proprio adesso te mi lo disi è chiuso dappertutto va bene dai ok ciao ciao perché avevo sentito un telefonino squillare si nono tadeo me nono è gammal de gola con il nato che le medicine adesso vuol essere che una macchinetta aperta da qualche parte se vediamo dopo sì nono ecco sono qua sono arrivati palmal de gola va bene ok aspetta un attimo non sei se io capì maria signor aspetta metto dentro la tessera lì ecco ok vediamo come funziona buongiorno signor benvenuto alla macchinetta delle medicine buongiorno e cosa devo fare inserire i schei di brutto così come ho solo un cinquantino metto sul cinquantino ok e adesso selezionare che tipo di medicina desideri medicina pari il mal di testa pari il mal de gola pari il mal de schiena pari il mal del tomeco parla tosse grassa parla tosse magra parla tosse in peso forma parle marandelle pari il mal de calcagno par digerir parruttare selezionare oh capì no nono tadeo che serve le medicine per il mal di gola grazie desidera una medicina di marca una medicina generica una medicina fatta dal stregon della foresta amazonica una medicina fatta da me così in che è dietro a studiare per far le medicine fatte in casa o una medicina usata come la medicina usata magari le medicine usate ma dai non so una generica non lo so dai una medicina per il mal di gola generica magari a cosa stancameno selezionare se si desidera incompresse siroppo bustine effervescenti gocceo supposte bustine effervescenti e nono seccata me o le scioglie che perde bene la coca cola mi dispiace abbiamo solo insupposte e come la visto insupposte meno si abbondimenta che c'è me fa un po coso me che l'emmenoro ma per fa un po solo su poste gavi se vuole c'è mio cosino che viene a metterte le lui ho capito ha fatto così cos'ha avuto che dire vabbè dai da me le supposte e dammi anche il resto magari eh mi dispiace la macchinetta non da resto neanche se ti insenoci e canti la canzone del prete dell'eniago che il la cata imbriago il la cata nel lago il la liga col spago e quando il la tirade su l'ha dito quasi quasi non me imbriago più una roba del genere ma cioè mi non so ma cioè vuoi ti cattifora tutte le scuse per non dammi mai il resto dai va bene dai dammi qua le medicine che compresse la nono arrivederci arrivederci e salutami i giandoni in studio ma ci sa niente del numero di telefono dell'angela boloni non posso me domandarlo così in diretta vabbè pazienza lo domanderò a uno piazza e furbo dei titoli e arrivo in studio arrivo subito